Ciao ragazzi e benvenuti nel ventesimo episodio In questo video impariamo a formattare i testi con CSS Abbiamo già visto come cambiare colore ad un elemento e centrarlo nello schermo Quindi andiamo velocemente a rivedere come si fa Quindi andiamo nel nostro file style.css Dichiariamo il selettore h1 E nel blocco di dichiarazione scriviamo color E come value gli passiamo red Poi nella property textalign Mettiamo center per centrare il nostro h1 nello schermo Quindi ora andiamo nel nostro CSS tutorial html E creiamo un h1 nel body Tra i due tag h1 vado a scrivere questo E un testo E salviamo Bene, ora abbiamo nella nostra pagina una scritta rossa allineata al centro Supponiamo di voler questo h1 allineato a destra nello schermo Beh, invece di andare a scrivere Qui nel nostro selettore h1 textalign center Basterebbe scrivere textalign right Infatti quando andiamo a ricaricare la pagina Ecco qua che adesso il nostro testo è allineato a destra Se volessimo invece metterla a sinistra Basterebbe avere come value invece di right left Inoltre come value del textalign possiamo avere justify Cosa fa il justify? Justify prende ogni riga di un elemento Che potrebbe essere un paragrafo E si assicura che ogni riga sia della stessa larghezza Quindi andiamo a creare un selettore per il paragrafo E mettiamo la property textalign Uguale a justify come ho appena detto Apriamo poi un nuovo tag p sotto il nostro h1 E qua scrivo questo è un paragrafo Lo copio e lo vado a incollare un po' di volte Per creare un paragrafo lungo Per capire al meglio come funziona il justify Ok, direi che così sia sufficiente Possiamo salvare se torniamo nel browser Quando andiamo a ricaricare la pagina Vedete che abbiamo il paragrafo E ogni riga di questo paragrafo inizia nello stesso punto Inoltre non solo inizia nello stesso punto Ma finisce anche nello stesso punto Ciò è possibile grazie al value justify della property textalign Vediamo poi una nuova property Che è la property letter spacing Che ci permette invece di creare uno spazio Tra una lettera e l'altra di un elemento Quindi impostiamola ad esempio a 10 pixel Quindi letter spacing Mettiamo 10 pixel Anzi lo andiamo a fare qui nel nostro heading Quindi nell'h1 Quando andiamo a ricaricare la pagina Vedete che il nostro h1 Il nostro heading Ha creato uno spazio tra una lettera e l'altra Di 10 pixel Quindi se vogliamo che ci sia più spazio Invece di 10 andiamo a scrivere 20 E come vedete quando andiamo a ricaricare la pagina C'è più spazio tra una lettera e l'altra Possiamo anche creare uno spazio tra una parola e l'altra Con la property word spacing Quindi andiamo nel nostro css Stavolta nel selettore p Andiamo a creare appunto il word spacing Che appunto significa spazio tra le parole E lo impostiamo ad esempio su 50 pixel Quando ricarichiamo la pagina Ecco qua che tra una parola e l'altra del paragrafo Ci sono 50 pixel Infine possiamo anche creare uno spazio tra una riga e l'altra Quindi restiamo nel blocco di dichiarazione del paragrafo E aggiungiamo la property line height Che significa appunto altezza tra le linee Passiamo ad esempio come value 2 Quando ricarichiamo la pagina Ecco qua che c'è molto più spazio tra una riga e l'altra Se volessimo invece sovrapporre le righe Per qualsiasi ragione Mettiamo un valore sotto ad 1 Ad esempio 0,5 Adesso guardate quando vado a ricaricare la pagina Ecco che le righe sono sovrapposte l'una sull'altra Bene, come sempre se il video vi è piaciuto Lasciate un like per supportarlo con l'algoritmo di youtube Commentate per qualsiasi dubbio o domanda E noi ci vediamo ad un prossimo video Grazie